Beh, si può andare solo avanti. Sì. Che posto è questo? Un modo molto elaborato per nascondere il dannato tesoro. Da che parte andiamo? Aspetta un secondo. Ci sono dei numeri romani nell'angolo della mappa di Drake. Devono voler dire qualcosa. Io resterò qui di vedetta mentre tu cerchi un modo per passare. Sì. 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 no ragazzi mi sono completamente persa è Grazie a tutti. 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 Oh... Salmi, mi senti? Dannazione, niente. No... 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 Ehi... Ce l'ho fatta! Ehi! Attento! Quel cosa non sembra tanto simile! HA Knights! Ehi! Ce l'ho fatta! Ehi, attento! Qualcosa non sembra tanto sicuro! Kate! Tutto bene! Sto 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 bene! Sparate! Sto bene! No! Sto bene! Un bel buco! Sto bene! 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 qui! Sto bene! Sto bene! Sto bene!